Dal 28 al 30 novembre al Polo Fieristico di Morbegno torna il Salone dell'Orientamento promosso dalla provincia e rivolto ai ragazzi di terza media che devono scegliere l'indirizzo di studi. Il presidente Moretti insieme ad Alan Vaninetti sottolinea il ruolo importante dell'ente nel settore istruzione col piano di dimensionamento e dell'offerta formativa e gli investimenti nell'edilizia scolastica inseriti nel bilancio triennale delle opere pubbliche. Palazzo Muzio inoltre finanzierà il trasporto al Salone di tutte le scuole. L'orientamento è fondamentale perché è un conto investire in infrastrutture ma ancora più importante investire sul materiale umano. I ragazzi hanno bisogno di un supporto per fare le scelte che determineranno poi il loro futuro e il Salone dell'Orientamento che è al terzo anno e che quest'anno ha ottenuto per la prima volta l'adesione di tutte le scuole medie della provincia di Sondrio che questo lo riteniamo veramente un successo ma soprattutto riteniamo di aver lavorato bene. La gestione del Salone è stata affidata al Consorzio Cooperativo e Solco. Quest'anno saranno 1720 ragazzi che parteciperanno da tutta la provincia di Sondrio, più gravidona e geralario, numeri in crescita e oltre ai ragazzi che parteciperanno saranno presenti tutte le scuole di secondo grado superiori della provincia di Sondrio. Con un coinvolgimento particolare rivolto ai genitori, alle famiglie. Esatto, il sabato pomeriggio e il 30 apriremo il Salone dalle 14.30 con l'intervento del Cross della Fondazione Credito Valtellinese e dalle 15 alle 16.30 per tutte le famiglie sarà possibile accedere agli stand, ai laboratori delle scuole. 60 laboratori vedranno gli allievi delle superiori nelle vesti di tutor per spiegare quello che si fa nelle loro scuole, previsti anche colloqui di orientamento individuali. Metà famiglia sarà presente il sabato pomeriggio, il 30, nella giornata in cui c'è l'apertura del Salone anche alle famiglie, con l'offerta dei colloqui orientativi, visto che appunto è una scelta non facile per tutti, l'idea è appunto di poter offrire un contributo in più che possa agevolare, possa aiutare, possa dare degli spunti di riflessione rispetto a fare la scelta migliore. Partner dell'iniziativa la Fondazione Credito Valtellinese. Abbiamo fatto appunto dell'orientamento un punto cardine della Fondazione Credito Valtellinese, noi appunto abbiamo appena terminato l'Orienta 2019, che sono appunto degli incontri che si sono svolti nelle scuole secondarie di primo grado della provincia di Sondrio, hanno ottenuto un grande successo.